C'è Bentivoglio qui al nostro microfono per parlare di questa partita, allora Bentivoglio partiamo dal risultato giusto questo 1-0? Sì, secondo me è giusto perché comunque il Pescara alla fine ha creato di più, noi ci è mancato qualcosa un po' sotto tutti i punti di vista, magari negli ultimi metri per finalizzare un po' di tutto, anche un po' di furbizia, tante situazioni che dobbiamo migliorare perché la Serie B non ti permette di fare certi errori. Nel secondo tempo il Pescara vi ha guadagnato metri, forse per voi il ramare con non aver concretizzato quelle due azioni da palla inattiva, da calcio d'angolo nel primo tempo, che sono state forse le vere opportunità dai primi 45? Sì, sì, hai detto bene, poi dopo quando perdi terreno comunque ti porti gli avversari nella tua area, sei sempre più soggetto ad avere comunque dei pericoli, è una cosa che non deve succedere, nel senso che dobbiamo avere più coraggio e tenere il baricentro più alto, anche nelle situazioni dove si soffre di più. Dopo la sconfitta con il Cosenza, questo K.O. di Pescara con lo stesso risultato, Venezia che continua a manifestare qualche problema soprattutto in attacco, perché secondo te? Ma niente, è un problema naturalmente di tutta la squadra, perché siamo partiti male, dopo abbiamo fatto una bella rincorsa, adesso queste ultime due partite diciamo che non sono andate bene, adesso dobbiamo concentrare tutte le energie sull'ultima partita col Carpi, che è fondamentale per chiudere bene, dove dovremmo cercare di rimediare agli errori delle ultime due partite. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo, volevamo magari sentire anche un po' l'opinione del tecnico Zenga, se sul gol di Brugman è mancata un po' di pressione, visto che Brugman è un po' il faro del gioco di Pescara, gli avete lasciato qualche metro di troppo? Sì, erano in tre contro due, lì sono stati bravi, comunque loro a dialogare, avevano superiorità numerica in quella zona del campo, e niente, è arrivato al tiro, in zona pericolosa, quindi sicuramente si doveva accorciare meglio e dargli più difficoltà alla conclusione.